È un dato di fatto, in Alto Adige è stato fatto molto per tutelare il territorio, anche per mezzo di opere di bonifica delle aree industriali per le quali sono stati investiti oltre 100 milioni di euro. Ora questi lavori sono raccontati in un libro scritto dall'ingegner Renato Palaia, ex direttore dell'ufficio provinciale Infrastrutture, ruolo che gli ha consentito di coordinare le bonifiche delle aree industriali di Bolzano Sud e di Merano Sinigo. Gli interventi di bonifica effettuati dalla provincia nei vent'anni e dal 1990 sono molto importanti perché hanno ristabilito le condizioni ambientali precedenti alla contaminazione dei terreni e quindi hanno determinato un impatto molto favorevole rispetto alla salute pubblica. Sono interventi che hanno una scarsissima visibilità e anche una scarsa risonanza a livello di informazione e dell'opinione pubblica, però la loro importanza è notevolissima nonostante questo handicap iniziale. Gli interventi descritti nel libro riguardano le aree industriali alluminia e l'area dell'ex magnesio che in futuro ospiterà il parco tecnologico, ma non solo. Trova ampio spazio infatti anche la bonifica della discarica di Castelfirmiano aperta agli inizi degli anni 50. Per quanto riguarda Merano invece vengono raccontate le bonifiche della zona produttiva di Sinigo, della Memc e della discarica della Valsura. Questa è l'eredità che noi abbiamo ricevuto dalla generazione che ci ha preceduto. Abbiamo ricevuto discariche abbandonate e siti industriali contaminati. L'obiettivo della nostra generazione è stato quello di restituire questo terreno alle persone, quindi a un uso urbano o alla natura come nel caso della discarica di Castelfirmiano.